Buongiorno. Buongiorno. Che ci fate qua? Siamo a fare lì. Hai dormito un pochettino, ma la madre qua. Eh, un po'. E le meggi sono arrivati in un cappeggio. Eh, sicuramente. Buongiorno, vanno a guardare le paste. Cavolo. Ci sono le paste, ci sono le brioche, c'è di tutto. No, avete perso 100 euro di visore.